bene torniamo a parlare della guerra franco indiana ringrazio innanzitutto domus robica per lo spazio che mi dà sul suo canale ecco siamo rimasti nel 1754 con le operazioni un po avventate di george washington che di fatto scatenano un conflitto in nord america solo di fatto perché formalmente francia inghilterra o meglio dire gran bretagna rimangono in pace continuano anche le trattative diplomatiche per risolvere delle controversie di confine in nord america ma anche in altri territori del del globo tuttavia i rispettivi governi di nascosto stanno organizzando delle spedizioni di regolari proprio in nord america per risolvere una volta per tutte questa guerra guerra fredda chiamiamola così questa guerriglia che si trascinava da tanto tempo in particolare luigi quindicesimo re di francia conscio del fatto che la sua marina militare è molto inferiore rispetto a quella britannica cerca in qualche modo di prendere tempo cerca di rassicurare il nemico che in realtà non vuole scatenare una guerra proprio perché sa che ha bisogno di tempo per ristrutturare per creare delle nuove navi nel frattempo però sta organizzando una spedizione per portare delle truppe regolari in canada o meglio dire nella nuova francia proprio per difendere i territori i suoi territori dall'invasione delle colonie inglesi e dall'altra parte a londra anche loro stanno organizzando un invio di soldati regolari perché si rendono conto che le colonie da solo e non ce le fanno dopo gli episodi nella vallata dell'ohaio il governatore della virginia di uidi cercò in tutti i modi di di stimolare gli altri governatori delle altre colonie però sì ci fu una partecipazione maggiore rispetto a qualche mese prima proprio perché adesso c'era il pericolo veramente incombente delle incursioni degli indiani e dei francesi che partivano da questo nuovo forte fort duquesne che era un'eccellente base di partenza di raccolta di questi di questi scorridori che potevano andare nel maryland in pennsylvania e in virginia e però c'era sempre questa tendenza delle colonie a non voler aumentare le tasse lasciare che magari fossero altre colonie a farsi carico di queste spese in realtà alla fine le la frontiera delle colonie inglesi era scoperta non non vi erano forti e le milizie i soldati provinciali si rivelavano inadeguati e quindi il governo di londra anche su spinta della nuova corrente parlamentare cosiddetta patriota cappeggiata da william pitt il vecchio che spingeva proprio perché il governo inglese del duca di newcastle si si impegnasse sempre di più in nord america per creare un grosso impero mondiale non solo in nord america ma anche nelle indie però in quel momento era importante per gli inglesi dare prova di forza per conquistare queste regioni contese e e quindi fu inviato in in nord america una spedizione fu inviata una spedizione di due reggimenti regolari il 44esimo e il 48esimo reggimento di linea di circa 500 uomini ciascuno in realtà erano dei dei singoli battaglioni e che poi però sarebbero state aumentate una volta arrivati a destinazione nel nuovo continente e poi vi era un generale il maggior generale edward braddock un generale di lungo corso che aveva l'incarico di coordinare tutte le azioni militari dei suddenti inglesi appunto in nord america contro i francesi braddock aveva anche il potere di negoziare con con i pelle rossa aveva il potere di anche di aveva un potere superiore rispetto a quello dei singoli governatori ricordo fra l'altro che proprio mentre george washington stava combattendo a forte necessiti nel luglio del 1754 sette colonie tra cui il massachusetts e il maryland la pennsylvania si erano riunite ad albani per quello che è considerato il primo congresso continentale della storia e in questo questa riunione dove vi erano dei delegati appunto provenienti da queste diverse regioni si parlò molto di creare una confederazione di colonie di queste province di creare una difesa comune e in particolar modo fu benjamin franklin che voleva stimolare questa questa nuova istituzione tipo una confederazione sul modello della lega irochese degli indiani irochesi tuttavia un po perché la madre patria non gradiva questa questa sorta di unione delle sue colonie dall'altra parte c'erano i soliti dissidi su come finanziare chi dovesse finanziare quanto finanziare queste difese il congresso continentale finì in nulla però fu un primo momento di consapevolezza delle colonie americane della possibilità dell'eventualità di unirsi insieme soprattutto era importante unirsi per negoziare con gli indiani prima di allora i singoli governatori andavano a negoziare con le singole tribù ma era era molto diverso se invece di andare un singolo governatore vi andavano 13 governatori insieme vi era molto più chiamiamolo potere contrattuale ecco inglesi le colonie inglesi pian pianino gli americani lo capiranno però un po più in là nel tempo nel frattempo arrivava braddock arrivava braddock e ad alexandria si riunì con i alcuni dei governatori per elaborare un piano e il più vivace tra i governatori oltre di uidi era william shirley che era il governatore del massachusetts egli era stato era un avvocato e prima di essere un politico era stato anche un generale che nella guerra di successione austriaca aveva conquistato la fortezza di louisbourg la fortezza francese sull'isola odierna isola di capo breton per cui insomma aveva una certa esperienza in ambito militare soprattutto odiava i francesi voleva farla finita una volta per tutte e pertanto elaborò un piano che poi venne approvato da dal nuovo generale braddock arrivato da poco insomma e prevedeva l'attacco in diverse direzioni vi erano diversi obiettivi il primo obiettivo era chiaramente fordo casner sulle forche dell'ohio di vitale importanza per i collegamenti francesi con i grandi laghi i territori più ad ovest e contro questo forte vi sarebbe andato il generale braddock in persona con i suoi due reggimenti regolari più altri reparti provinciali della virginia e altre compagnie di soldati delle compagnie indipendenti portando con sé dell'artiglieria proprio per bombardarlo e distruggerlo un altro obiettivo importante era fort san frederic sul lago champlain e questa direttiva questa autostrada d'acqua che dal dal fiume dal fiume hudson passava appunto per i laghi george champlain il fiume richelieu e si arrivava fino al san lorenzo montreal e quebec era importantissimo quindi avere il possesso di questa via d'acqua era importantissimo per gli inglesi neutralizzare il caposaldo transalpino appunto sul lago champlain e a questa missione fu incaricato il certo william johnson william johnson era un mercante irlandese che aveva fatto fortuna nell'odierno territorio di new york egli aveva intrecciato delle importanti relazioni con gli rocchesi che appunto abitavano in questa zona soprattutto con la tribù mooc aveva sposato anche in seconde nozze una chiamiamola così una principessa mooc e quindi grazie anche a questi buoni rapporti che aveva con gli indiani della regione fu deciso di affidare a lui l'incarico di questa spedizione contro fort san frederic altro obiettivo era forte niagara tra il lago ontario e il sì sul lago ontario sul fiume niagara che collega appunto il lago aerie col lago ontario dove ci sono appunto le famose cascate con sé avrebbe portato dei soldati provinciali del new jersey e anche due nuovi reggimenti che portavano il suo nome quello di william pepperell che erano due reggimenti il cinquantesimo il cinquantunesimo formalmente appartenenti all'esercito di sua maestà britannica re giorgio secondo però di fatto erano stati reclutati interamente in america quindi comunque con un addestramento molto limitato un altro obiettivo importante e l'ultimo obiettivo diciamo il quarto di quella di quella spedizione era fort bersejour e il forte che diciamo tenevano i francesi sul fiume missaguas che era una sorta di difesa in accadia da parte appunto dell'invasione inglese gli inglesi controllavano la penisola dell'acadia l'odierno nuova scozia e i francesi invece tenevano il possesso dell'odierno new brusenwick ovvero l'acadia continentale ecco fort bersejour era la chiave di volta per entrare nell'acadia continentale quindi non è un caso che gli obiettivi di questa spedizione che sarebbe avvenuta appunto nella bella stagione del 1755 erano tutti dei fortini su laghi su fiumi su delle baie proprio per ricordarvi quanto erano importanti in quel contesto le vie di comunicazione acquatica e questi fortini che non erano solo dei posti di difesa ma erano anche dei posti di scambio commerciale culturale anche dei punti di riferimento della regione dei segni tangibili della presenza ora francese ora inglese nel territorio quindi andiamo a vedere innanzitutto la spedizione più importante quella di braddock a fort duquesne la spedizione era molto difficile sulla carta perché bisognava attraversare esclusivamente via terra un territorio in mezzo delle foreste bisognava attraversare parte della 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 virginia poi del maryland e fine della pennsylvania attuali confini un territorio assolutamente vergine privo di sentieri soprattutto privo di fiumi navigabili almeno in quella direzione bisognava andare tutto a piedi ci volevano dei carri dei cavalli e ci volevano le provviste perché era un territorio dove non abitava nessuno quindi le provviste bisognava portarsene se non le non le si trovava di certo per strada era un percorso di centinaia di chilometri e braddock per cui alla fine di maggio riuscì assemblare la propria armata di circa 2200 uomini come vi dicevo prima vi erano i due reggimenti regolari altre compagnie regolari indipendenti provenienti dal north carolina e da new york e altre altre reparti di provinciali soprattutto virginiani si era portato con sé parecchi cannoni e vi erano anche dei marinai e abili a costruire magari delle zattere dei ponti abili anche a manovrare questi cannoni vi erano dei carpentieri e poi vi erano anche dei parenti le famiglie di alcuni soldati che li seguivano oltre le classiche cosiddette camp follower cioè con le signore che seguivano gli eserciti che un po' vendevano varia merce un po' lavavano il bucato dei soldati un po' facciano anche da prostitute ecco c'era bisogno anche di questo in in una spedizione militare insomma comunque una spedizione molto importante che però marciava molto lentamente e perché l'ingombro era tanto questa spedizione aveva avuto anche dei grossi problemi a partire perché non si trovavano i cavalli non si trovavano i postiglioni tanto che fu benjamin franklin come responsabile del servizio postale della pennsylvania finalmente a trovare i cari i cavalli necessari per farla partire questa questa campagna con braddock c'erano anche george washington e christopher giste proprio perché conoscevano la regione e braddock aveva avuto la giusta intuizione di portarseli con sé george washington con la qualifica di suo aiutante di campo quindi vediamo che george washington aveva un'altra possibilità per conquistare fordo cast aveva la possibilità di rifarsi dall'umiliazione dell'anno prima e però braddock che fece un grosso errore sottovalutò gli indiani alcuni guerrieri shawney e delaware che abitavano la regione si erano offerti per combattere con lui ma lui li trattò molto male e li pratica li scacciò con lui rimasero solo otto guerrieri e questo fu un grave errore perché chi conosceva meglio quella regione chi poteva evitare delle imboscate erano proprio delle guide indiane comunque nonostante tutto a fatica sradicando alberi tagliando cespugli pian pianino braddock avanzava sempre di più alla fine su consiglio di george washington si decise di lasciare ovviamente i parenti i farli tornare indietro l'artiglieria più pesante i carri più pesanti lasciarli al comando del colonnello d'umbar in retroguardia e marciare più speditamente con 1200 1300 uomini con meno carri e con due o tre cannoncini di più limitato calibro da 6 libre da 12 libre le libre erano appunto il il peso del proiettile che veniva sparato quindi qualche chiletto 3 chili 6 chili ecco non di più e andando più velocemente finalmente riuscirono arrivare gli inglesi sul monongaela questo fiume che come vi dicevo congiungendosi con l'allegheni fa forma l'ohaio arriva appunto alle forche dell'ohaio dove c'era fondue caesne quindi erano veramente a pochi chilometri gli inglesi allora dovevano però guadare due volte il monongaela perché aveva una forma s in quel tratto il corso d'acqua quindi guadarono la prima volta e poi finalmente la seconda apparentemente indisturbati e sì c'erano stati magari nei giorni precedenti qualche qualche sentinella che era scomparsa forse c'era qualche indiano nella regione ma fondamentalmente non avevano avuto molti pericoli comunque c'erano sempre delle truppi non aveva scoperta i lati e insomma il il passaggio più difficile appunto guadare il fiume monongaela dove poteva avvenire un'imboscata sembrava passato ma in realtà non era così e infatti i francesi si stavano organizzando avevano avuto notizia dell'arrivo di questa spedizione a fordo caesne c'era il comandante che però aveva poche poche 150 200 soldati delle compagnie franche di marina però ben presto arrivarono dei rinforzi proprio perché i francesi avevano delle linee interne caratterizzate da queste vie d'acqua fecero molto più la svelta arrivare i rinforzi quindi arrivarono ulteriori miliziani arrivarono anche degli indiani alleati soprattutto a Benaki e quindi alla fine circa un migliaio di combattenti erano stati riuniti al comando del capitano Beugeux si misero in marcia i primi di luglio l'otto di luglio proprio per andare a intercettare l'avanzata del nemico per bloccarlo prima che fosse a ridosso del forte dove con le sue artiglierie sicuramente avrebbe ridotto in baciare questo forte che era stato costruito sicuramente non per resistere a un assedio a un bombardamento secondo lo stile europeo era un forte di frontiera doveva resistere solo a qualche incursione Beugeux però arrivò tardi non riuscì a raggiungere gli inglesi prima che guadassero il Monongaela proprio perché gli indiani comunque che erano parecchi erano la maggior parte della sua spedizione creavano sempre dei problemi degli intoppi rallentavano e quindi arrivarono quando ormai l'avanguardia inglese era aveva già passato il fiume e si stava incamminando diciamo in questo bosco caratterizzato da una fitta vegetazione e da delle piccole alture in realtà la battaglia del Monongaela non fu un'imboscata si incontrarono l'avanguardia inglese e Beugeux con i suoi uomini lungo il sentiero faccia faccia ovviamente si resero conto che c'era l'adversario davanti e quindi cominciarono i primi furono gli inglesi a schierarsi in linea a sparare Beugeux fu colpito subito a morte e anche gli altri miliziani canadesi e indiani che erano con lui cominciarono a scappare via però gli altri comandanti e gli altri ufficiali delle compagnie franche di marine in particolare il capitano Dumas riuscì un po' a riorganizzare i suoi uomini e a farli disporre ai lati di questa valletta assieme agli indiani facendo così riuscivano quasi a come posso dire a fare una formazione AU che poteva bersagliare con un fuoco incrociato gli inglesi che erano nel mezzo lungo il sentiero Gage che comandava appunto la vanguardia fece portare avanti i cannoni sparare qualche cannonata però i francesi gli indiani erano nascosti nella foresta non si vedevano saltavano fuori solo per sparare e poi si rinascondevano e si muovevano tra un albero e l'altro all'odire queste esplosioni Braddock col grosso del suo esercito perlomeno della sua parte principale del suo esercito ricordo che oltre la metà dei suoi uomini erano rimasti più indietro qualche chilometro più indietro con il colonnello Dumbar insomma col grosso però delle forze a disposizione immediatamente si precipitò lungo il sentiero per andare in soccorso a Gage solo che così facendo la sua vanguardia e il grosso del suo esercito si accalcarono, si contrastavano, si ostacolarono a vicenda rendendo più difficile capire cosa stesse succedendo rendendo più difficile anche il formarsi di una nuova linea nel frattempo gli indiani continuavano a sparare i canadesi miliziani erano ritornati a combattere un primo tempo erano scappati però adesso erano tornati a combattere con i loro ufficiali i canadesi erano degli ottimi tiratori nascosti, mettevano vittime e gli inglesi, ebbe Braddock, li dispose come sapeva fare lui non sapeva combattere la petite guerre sapeva combattere l'europea per cui li dispose in fila a sparare una linea dopo l'altra però così li racchiudeva tutti in uno spazio molto ristretto per cui i tiratori transalpini e i loro alleati in pelle rossa non avevano alcuna difficoltà a centrare gli uomini sparavano nel mucchio, qualcuno cadeva e tanti cadevano le urla degli indiani terrorizzavano questi soldati anche se esperti, anche se di professione soldato dopo soldato cadevano uno alla volta anche gli ufficiali a cavallo erano un ottimo bersaglio e uno ad uno venivano colpiti lo stesso George Washington che si muoveva lungo il campo di battaglia ebbe due cavalli uccisi sotto di lui e varie pallottole lo sfiorarono anche Braddock che cavalcava avanti e indietro cercando di rincorare, di organizzare i suoi uomini ebbe quattro cavalli uccisi sotto di lui però non capiva che doveva cambiare tattica non doveva lasciare i suoi uomini allo scoperto tutti raggruppati i provinciali invece della Virginia astutamente si erano nascosti dietro dei tronchi e in qualche modo cercarono un po' di replicare in mezzo a quel mare verde dove però non si distingueva quasi niente alla fine Braddock fu colpito al ventre e cadde da cavallo ormai era già pomeriggio inoltrato erano quasi le 16 16.30 se non sbaglio e diede l'ordine di ritirarsi tra l'altro la sua retroguardia aveva lasciato indietro qualche centinaio di metri con ulteriori cannoni il colonnello Alket anche loro erano stati attaccati perché lo schieramento U dei francesi si era talmente allungato quasi da circondare l'intero contingente inglese bisognava assolutamente scappare e riguadare il monogaela questo compito lo ebbe George Washington che era l'unico ufficiale ancora sano che non era stato colpito con i suoi virginiani riuscì a organizzare un minimo di retroguardia permettere ai feriti che si potevano muovere e agli altri soldati di sommestà di scappare, di retrocedere purtroppo però i feriti gravi coloro che erano rimasti sul campo non ebbero scampo e ben presto vennero assaltati dagli indiani alcuni vennero fatti prigionieri altri furono scalpati torturati sul posto però George Washington con la sua azione molto coraggiosa di retroguardia riuscì a permettere a quello che rimaneva della colonna di Braddock di ritirarsi fu però una ritirata sicuramente disorganizzata in preda al terrore questi soldati scapparono a perdifiato per oltre un giorno tutta la notte con i feriti magari in spalla cercando appunto di raggiungere l'accampamento del colonnello Dumbar che era distante però appunto alcuni chilometri e alla fine le perdite furono molto gravi per gli inglesi persero oltre 800 uomini dei 1200-1300 che parteciparono a battaglia di Monungaela i francesi ebbero qualche decina di perdite una trentina di perdite tra gli indiani fu quindi un grosso trionfo dei transalpini che avevano dimostrato ancora una volta di dominare i boschi di sapere utilizzare bene gli indiani in questa tattica della guerriglia però attenzione non era tutto finito perché comunque la forza di Braddock era sempre molto più superiore rispetto a quella dei francesi potevano riorganizzarsi avevano ancora dell'artiglieria potevano ritentare un attacco fra l'altro gli indiani contenti di aver fatto bottino, scalpi contenti della vittoria avevano ben presto abbandonato Dumbar che il giorno dopo si trovò con questi selvaggi mezzi ubriachi con tutti i loro scalpi che lo salutarono e se ne andarono Dumbar aveva veramente qualche decina di soldato di marine non sapeva cosa fare non poteva continuare a inseguire gli inglesi per cui decise di far arrivare delle canoe da Fort Duquesne e prendere i cannoni inglesi e riportarli indietro e aspettare sperando che gli avversari non ritentassero un nuovo attacco questo attacco non fu ritentato il morale inglese era terra nonostante come vi dicevo prima i numeri gli davano ancora ragione potevano ancora tentare un nuovo attacco però ben presto durante la ritirata il generale Braddock morì morì proprio vicino a Grand Meadows dove c'era stata la battaglia di Fort Necessity l'anno prima e venne seppellito sotto la strada proprio per evitare venne fatto poi passare tutti i carri proprio per evitare che gli indiani scoprissero la sua sepoltura e ne facessero scempio del proprio cadavere la notizia della disfatta di Braddock si diffuse in tutte le colonne inglesi andò a influire pesantemente anche sulle altre tre spedizioni che vi dicevo prima perché proprio era quella con il generale proveniente dall'Inghilterra con le truppe regolari fu una grossa battuta d'arresto anche perché poi il colonnello Dumbar ebbe la buona idea di ritirarsi ad agosto nei quartieri invernali a Philadelphia lasciando praticamente interamente scoperta la frontiera dalla Virginia alla Pennsylvania e del Maryland frontiera aperta alle scorribande dei francesi e dei loro alleati indiani solo il povero George Washington che ebbe dopo questa spedizione il comando di tutte le truppe virginiane il comando di un intero reggimento di provinciali proprio per difendere la frontiera della sua colonia cercò in qualche modo di tamponare ma voi capite bene che con mille uomini tra l'altro mal addestrati non era facile riuscire a controllare tutta questa immensa frontiera inesplorata lui ebbe il quartiere generale a Winchester nella valle dello Shenandoah e da lì cercò di istruire i suoi uomini cercò di fare il possibile per tre anni fu veramente l'unico balluardo dei virginiani nei confronti delle scorrerie nemiche che fra l'altro venivano sempre più favorite da Dumas e da Forducasne Dumas era diventato poi il nuovo comandante di Forducasne proprio perché aveva capito che gli inglesi erano stati sconfitti ormai se ne erano andati aveva via libera tra l'altro ironia della sorte durante le loro scorribande gli indiani e i transalpini i canadesi sfruttarono proprio la strada che Braddock con tanta fatica aveva costruito in mezzo ai boschi in mezzo alle le montagne diciamo della del Maryland della Pennsylvania e così insomma finiva in maniera molto tragica una spedizione molto importante per la corona britannica nel 1755 adesso però prima di parlare di un'altra spedizione l'attacco a Ford San Frederic è opportuno raccontare quello che accade qualche mese prima infatti mentre gli inglesi come vi dicevo prima avevano mandato Braddock con questi due reggimenti di regolari i francesi avevano spedito addirittura sei battaglioni di regolari in Inghilterra subito dopo gli inglesi con una squadriglia al comando dell'ammiraglio Dubois della Motte e questo convogli oltre a portare gli uomini i viveri le munizioni erano scortati da varie fregate proprio perché c'era il pericolo di un attacco inglese delle navi inglese in pieno atlantico allora i francesi utilizzarono un buono stratagemma per caricare le truppe e i vari beni invece di utilizzare delle normali navi cargo utilizzarono dei vascelli da guerra svuotati però dei loro cannoni i cosiddetti Enflut in modo da ingannare il nemico credendo che fossero tutti dei vascelli da combattimento però nonostante tutto l'ammiraglio Boscaven con rinforzato da ulteriori vascelli aspettava a largo di Terranova questo convoglio navale francese Dubois Delamotte però fu molto bravo ad aggirarlo anche sfruttando la nebbia e riuscì ad arrivare a Quebec solo prima a Louisbourg e poi a Quebec solo tre navi si persero nella nebbia e si andarono a incrociare proprio con le navi inglesi che si accostarono e fecero fuoco due di queste furono catturate centinaia di marinai furono uccisi perché colpiti alla spronvista a distanza ravvicinata dai cannoni delle navi britanniche e solo un'altra nave il Delfino le Delfine riuscì a scappare questo attacco sull'isola di Terranova fu un ulteriore episodio di sconcerto da parte della monarchia parigina ancora una volta venivano aggrediti i francesi proditoriamente dai britannici in una condizione di pace formale fra le due nazioni e anche questo episodio sicuramente influì molto sugli sviluppi diplomatici successivi insomma nonostante tutto però Debois de la morte riuscì a portare il sul prezioso carico di uomini e con loro soprattutto c'era il nuovo governatore della nuova Francia il marchese de Vaudray e il il nuovo comandante delle forze armate francesi il barone Diesco che era un diciamo generale di origine tedesca che aveva già avuto delle esperienze nella guerra di successione austriaca questo barone ebbe l'incarico da Vaudray che era comunque in quanto governatore generale che andava a sostituire il governatore uscente duquesne era il comandante di tutte le forze armate della Nouvelle France però poi operativamente c'era Diesco che doveva gestire sul campo di battaglia le varie truppe in un primo momento Diesco con 3000 regolari era andato sull'agontario proprio prevedendo un attacco su forte Niagara come dicevo prima che effettivamente era stato progettato da Shirley poi però vedendo che questo attacco non si materializzava e scoprendo i piani britannici perché sul Monongaela nella loro fuga l'inglese avevano lasciato anche le carte di tutti i piani di Braddo che quindi i francesi ebbero modo di scoprire tutte le varie intenzioni dei britannici per cui allora Diesco con i suoi soldati si spostò nell'area del lago Champlain proprio per difendere Forte San Frederic nel frattempo il mercante Johnston che Johnston scusate era riuscito ad assemblare una forza di circa 3.000 uomini tutti provinciali provenienti da ben 5 colonne differenti a fatica con l'interferenza di quella colonia o di quell'altra insomma era riuscito in qualche modo a organizzare un piccolo esercito che si era messo in cammino e prima lungo Lazzon e poi a piedi era riuscito a raggiungere il lago George così ribattezzato proprio da William Johnston infatti questo lago originariamente si chiamava Lac di Saint-Sacrement dai francesi perché era limpido come una fonte battesimale però Johnson lo rinominò col nome appunto del suo re per fargli un omaggio William Johnston intanto era riuscito ad assemblare circa 3000 soldati provinciali di varie colonie lì attorno al lago Champlain e si era messo in marcia era stato anche nominato sovrintendente agli affari indiani nella regione e proprio in virtù di questo incarico che aveva ricevuto cercò in qualche maniera di avere l'alleanza degli indiani rocchesi però ottenne in pratica una neutralità solo 200 guerrieri Mohawk del capo Hendrick affermarono insomma si diedero disponibili a combattere con lui Johnson con i suoi uomini riuscì a risalire il fiume Azzon dove iniziò a costruire un forte chiamato Fort Lehman e poi ben presto ribattezzato Fort Edward lasciando 500 uomini a terminare questa costruzione si stabilì sulla riva meridionale del lago Georges ribattezzato in questo modo proprio da Johnson poiché questo lago in realtà i francesi lo chiamavano lago Saint Sacrament qui si accampò in attesa un po' di decidere cosa da fare di proseguire la sua avanzata verso Fort San Frederic però come vi dicevo prima Dieusque con indiani miliziani e alcuni regolari di Francia scendendo diciamo dal versante orientale del lago Champlain e poi del lago Georges arrivò a piombare proprio contro l'accampamento di William Johnson in un primo tempo Dieusque voleva attaccare Fort Liman però gli indiani si dimostravano contrari proprio perché non era il loro costume attaccare dei forti anche se effettivamente era ancora in costruzione e per cui alla fine si decise di attaccare questo accampamento sul lago ecco fortunatamente ci fu in mattinato un attacco un'avanguardia che stava portando dei rinforzi proprio Fort Liman che diede quindi l'allarme a Johnson e i suoi uomini che riuscirono in qualche modo a barricarsi utilizzando dei tronchi dei carri delle casse dei barconi e quindi attesero l'arrivo dei nemici che avevano sbaragliato come vi dicevo prima un contingente dove tra l'altro vi erano i moh del capo Hendrick che rimase ucciso gli indiani i francesi e i miliziani del Canada circondarono l'accampamento e cominciarono una intensa sparatoria però gli anglosassoni dimostrarono di essere molto bravi col tiro col fucile infatti gli americani anche nella guerra di indipendenza dimostreranno di essere molto bravi a combattere dietro dei ripari avevano anche quattro cannoni che utilizzarono molto bene e quindi dopo un lungo combattimento alla fine riuscirono a respingere gli attacchi avversari disc fu ferito varie volte fu anche catturato e gli indiani alla fine si ritirarono scapparono via perché appunto dopo diverse ore la battaglia durò fino alle 5 del pomeriggio era l'8 settembre del 1755 insomma alla fine vedevano che le cose tiravano troppo per le lunghe e decisero di allontanarsi questa battaglia conosciuta come battaglia del lago George costò circa 300 perdite sia da una parte che dall'altra Johnson però diventò una specie di eroe nel disastro di Braddock era comunque una vittoria per la parte inglese anche se di fatto Johnson venne ferito alla coscia sin dai primi scontri e non partecipò non guidò i suoi uomini per tutto per tutta la battaglia comunque sia questo risultato gli valse il titolo di baronetto a questo punto Johnson avrebbe dovuto continuare la sua missione risalire verso nord verso Fort San Frederic però un po' aveva visto che i suoi uomini erano mal equipaggiati non erano molto ben disciplinati temeva delle imboscate da parte dei francesi che si erano ritirati ma comunque erano sempre presenti nella regione avevano iniziato la costruzione di un forte nella penisola di Ticonderoga tra il fiume tra il lago George e il lago Champlain e poi anche era intelligente insomma aveva capito che aveva ottenuto un'importante vittoria e non voleva rischiare di perdere tutto di perdere questa sua reputazione magari con una cadendo in una imboscata come era capitato a Braddock per cui decise di fermarsi iniziò la costruzione proprio dove aveva il suo accampamento di un forte chiamato Fort Henry con legno e terra e poi lasciò lì una piccola guardigione e si ritirò nei quartieri invernali tornò verso Albani verso New York la spedizione quindi sulla Gorge terminava con diciamo così una situazione di sufficientemente positiva per l'inglese avevano comunque stabilito due forti Fort Edward e appunto Fort Henry e contendevano questa regione al nemico ma un altro importante successo per gli inglesi arrivò in Acadia come vi dicevo in Acadia c'era gli inglesi che controllavano la Nuova Scozia la penisola però l'Acadia continentale New Brunswick era ancora sotto il controllo dei francesi perciò Shirley a Boston organizzò una spedizione con circa 2000 soldati provinciali quasi tutti provenienti dalla sua colonia e gli spedì proprio contro il forte Fort Bouchesure sul fiume Missaguas che segnava un po' il confine tra l'Acadia inglese e quella francese ad aiutarlo arrivarono anche dei regolari dalla Nuova Scozia comandati dal tenente colonnello Robert Moncton con anche dell'artiglieria indisturbati riuscirono ad arrivare molto vicino al forte e iniziarono a predisporre delle piazzole per bombardarlo questo forte era difeso da pochi soldati un centinaio di soldati delle compagnie franche di marina poi qualche miliziano accadiano costretto con la forza sotto la minaccia della pena di morte appunto di andare a difendere questo fortilizio al comando del capitano Devergor poi con lui c'era anche il missionario Lelutre gli inglesi comunque erano molto più numerosi cominciarono a bombardare Fort Bouchesure che dopo qualche giorno si decise insomma si arrese Devergor capì che non c'era niente da fare e chiese la resa sarà poi processato per questa sua decisione un po' troppo veloce però poi grazie anche alle sue conoscente con l'intendente della nuova Francia Bigot François Bigot un personaggio che vedremo poi anche successivamente molto losco che aveva degli intrallazzi con gli ufficiali delle compagnie franche di marina con altri funzionari della colonia per truffare proprio la corona il suo re per accumulare dei profitti personali beh insomma con l'intervento di Bigot riuscì a salvarsi a non finire in galera e mantenne il suo posto però nel frattempo appunto gli inglesi avevano conquistato Fort Bouchesure e avevano in pratica avuto il controllo di tutta la Cadia sia della nuova Scozia sia dell'odierno New Brunswick l'Eleuthre riuscì a scappare non si sa come riuscì a scappare comunque però sarà presto catturato dalla Royal Navy mentre stava rientrando in Francia e passerà alcuni anni in prigione in Inghilterra a questo punto la situazione doveva essere tranquilla in Accadio ormai gli inglesi avevano avuto il controllo di tutta la regione però non fu così perché comunque rimaneva sempre questa popolazione di accadiani ritenuti non fedeli a Re Giorgio gli si chiese di fare un giuramento nelle settimane successive giuramento di fedeltà a Re Giorgio però molti nicchiavano molti pretendevano altri diritti e quindi il governatore Lawrence decise di deportare di sua iniziativa senza indicazioni da Londra di deportare tutti gli accadiani nel mese di agosto tutte le famiglie degli accadiani furono assemblate attorno ai posti militari e con delle imbarcazioni furono letteralmente scaricati sulla costa atlantica degli odierni Stati Uniti questi poveretti vedranno le loro case bruciate e ben in pochi riusciranno a tornare in patria tanti si adatteranno appunto a vivere nelle colonne anglosassone alcuni torneranno in Francia o si stabiliranno in Louisiana o nel Canada quasi 8000 persone vennero deportate con delle famiglie separate perché appunto se una famiglia non stava tutta in una barca alcuni membri venivano mandati in un'altra barca e veramente tanti non riuscirono più a ricongiungersi un vero dramma una vera deportazione di massa che pesa sugli inglesi però dal punto di vista di Londra l'Acadia forse era stato l'unico grande successo di quell'anno infatti l'ultima grande spedizione quella organizzata da William Shirley che di persona avrebbe dovuto guidare i suoi uomini per conquistare Forte del Niagara ebbe degli intoppi il viaggio era molto lungo si partiva attraversare navigando lungo il fiume Mohawk poi c'era da fare un pezzo lungo la foresta poi riprendere un altro fiume il Wood Creek infine arrivare al Lago Neida e riattraversare risalire anzi meglio dire ridiscendere il fiume Osvego o chiamato anche Onondaga per arrivare sulla Gontario dove nella riva sud orientale c'era un fortilizio degli inglesi era un posto di scambio dove appunto venivano fatti degli affari con gli Onondaga che ricorda erano una delle tribù della confederazione erochese il viaggio quindi era molto lungo i rinforzi le munizioni i vivere arrivarono a fatica e la stagione cominciava a essere sempre più avanzata tra l'altro Shirley aveva anche un grosso dubbio dato che il suo obiettivo era Forte Niagara quindi lungo il fiume omonimo che congiunge il Lago Erie con lo stesso Lago Ontario però nella parte nord dello stesso Lago Ontario vi era anche Forte Frontenac un altro baluardo importante dei francesi ben presidiato con una una squadra di navi lacustri quindi temeva che attaccando Forte Niagara da Forte Frontenac che sarebbero arrivati i francesi avrebbero preso possesso della riva di Oswego dove c'era appunto il Forte l'accampamento inglese con tutte le loro provviste tagliando loro ogni fonte di sostentamento e la ritirata questa era la cosa più grave perché gli inglesi si sarebbero ritrovati in un territorio ostile nemico selvaggio senza la possibilità di sopravviverli allora Shirley decise di rimandare l'anno successivo la sua impresa fra l'altro era rimasto anche molto scioccato perché aveva ricevuto la notizia anche lui della disfatta di Braddock dove peraltro uno dei suoi figli rimase ucciso un altro dei suoi eredi che era con lui nella spedizione sul lago Ontario morì anche lui per un'epidemia quindi quest'uomo era anche distrutto dal punto di vista umano ha perso due figli nel giro veramente di poche settimane quindi non gli rimase altro che lasciare un piccolo presidio a forte chiamato Oswego e tornarsene in Massachusetts a Boston quindi terminava così terminavano così tutte le campagne progettate dagli inglesi quindi a parte la Cadia tutte le altre si erano rivelate insomma dei mezzi fallimenti e i problemi rimanevano molto gravi per i britanni che si rendevano conto che senza l'aiuto degli indiani non riuscivano a muoversi nelle foreste proprio per questo si cercò di ovviare reclutando dei rangers i rangers erano delle truppe peraltro già presenti anche nella guerra di successione austriaca uomini di frontiera che erano capaci di vivere nei boschi e il più famoso che diventerà famoso proprio con la guerra franco-indiana era Robert Rogers che con dei rangers reclutati nel New Hampshire proprio durante la campagna del Lago George comincerà a muovere i primi passi e in quell'inverno tra il 1755 e il 1756 organizzerà delle nuove compagnie al soldo stavolta però della corona britannica e inizierà le sue esplorazioni della zona andando a spiare i francesi a Ticom de Roga e a Fort San Frederic in realtà i rangers non erano certo come gli indiani però rispetto al nulla erano comunque delle persone in grado di orientarsi nei boschi di fare delle spedizioni esplorative e anche delle imboscate quindi si cominciavano a organizzare queste truppe che poi nel corso della guerra diventeranno sempre più esperte nell'arte della guerriglia anche da parte anglosassone tra di loro vi erano anche degli indiani Stockbridge originari della zona del Massachusetts che anche loro erano arruolati come dei normali soldati bianchi e daranno anche loro il contributo un aiuto importante a Robert Rogers però necessitava l'Inghilterra di maggiori iniziative quindi proprio alla fine di quell'anno si decise di attuare un blocco navale ai porti francesi sull'Atlantico la guerra non era ancora scoppiata però gli inglesi cominciarono ad attivare la loro potente Royal Navy e Royal Navy e molte navi sia mercantili che anche militari vennero catturate con tanti marinai francesi questo era un grosso problema per Luigi XV che in un primo tempo cercò di agire diplomaticamente cercando di risolvere la questione cercando di liberare tutte queste navi tutti questi uomini ma gli inglesi erano molto determinati e si preparavano per preparare nel 1756 una nuova campagna per riuscire finalmente a conquistare la nuova Francia dall'altra parte della barricata i francesi erano a parte la Cade riusciti comunque a mantenere il controllo dei loro forti e dei territori sotto la loro influenza tra l'altro in Accadia era sì sotto il controllo inglese anche la parte continentale però vi rimanevano dei partigiani accadiani degli indiani mikmac che per tutto il resto della guerra continueranno a fare delle imboscate a disturbare la presenza britannica in questa regione per cui anche lì la situazione sembrava non definitiva la regione non sembrava persa rimane da fare una considerazione questi poveri accadiani che non erano forse né cittadini francesi né anche inglesi vennero utilizzati sia da Re Giorgio che da Re Luigi come dei strumenti delle pedine per i loro giochi di potere causando morte come vi dicevo prima deportazione tanta sofferenza questa è un'importante riflessione da fare quello che era l'atteggiamento dei sovrani in quel periodo che usavano i propri sudditi proprio come degli oggetti per il resto la Francia si preparava per il 1756 a una nuova resistenza proprio però a causa della strapotere della marina inglese i rifornimenti per la nuova Francia arrivavano sempre col contagocce perché dovevano partire alla spicciolata non tutti insieme proprio per cercare magari dividendosi in tanti convogli di sfuggire alla mossa degli inglesi però a volte non sempre erano fortunate queste navi venivano catturate per cui il nuovo governatore David Royles capiva che doveva sempre più arrangiarsi da solo quindi cercò di rinsaldare di rinforzare i legami con tutti gli indiani gli abbenachi gli uroni gli algonchini gli indiani dell'Ohio i miscioni Delaware eccetera eccetera per unirli tutti insieme sotto la bandiera gigliata di Francia e a aumentare il reclutamento delle milizie i miliziani canadesi che erano comunque una risorsa molto importante per la difesa di questa colonia in attesa magari che arrivassero che riuscissero ad arrivare ad approdare comunque altri battaglioni regolari della Francia e vedremo che anche nel 1756 arriveranno ben presto dei rinforzi altri battaglioni al comando di un nuovo comandante che sostituiva di Esque finito in prigioniero appunto dei nemici questo nuovo generale era il maresciallo di campo il marchese de Montcalm un ufficiale molto esperto che aveva combattuto la guerra di successione austriaca era stato ferito era stato anche prigioniero che però aveva avuto questo incarico proprio perché la destinazione del Canada non era molto ambita dai generali d'Oltralpe loro sapevano che ben presto sarebbe scoppiata una guerra in Europa e preferivano combattere delle grandi battaglie nel vecchio continente Montcalm invece era più umile forse aveva anche anzi probabilmente aveva bisogno anche di soldi per la sua famiglia numerosa lui era un nobile un po' decaduto e quindi accettò questa proposta però Montcalm si rivelerà un ottimo stratega e saprà utilizzare bene le poche risorse a disposizione chiudo dando una breve panoramica sulla situazione in Europa siamo nel 1756 e tutte le tensioni fra le grandi potenze d'Europa deflagrano in una grande guerra la cosiddetta guerra dei sette anni abbiamo visto che già Francia e Inghilterra di fatto erano in combattimento non solo in Nord America ma anche nelle Indie dove le due rispettive compagnie commerciali avevano organizzato dei piccoli eserciti e avevano ricominciato a scontrarsi adesso la situazione era matura però anche in Europa infatti l'Austria di Maria Teresa dell'imperatrice Maria Teresa era sempre più interessata ad avere una rivincita contro la Prussia che nell'ultima guerra la guerra di successione austriaca di otto anni prima gli aveva portato via la Slesia e Maria Teresa abilmente aveva manovrato per isolare politicamente la Prussia cercando di allearsi con la Francia vecchia rivale degli Asburgo e vecchia alleata dei prussiani con il trattato proprio in scadenza in quel periodo Maria Teresa con il suo ministro Kaunitz riuscì a diciamo a farsi benvolere dalla marchesa di Pompadour la favorita di re Luigi XV e ad avviare delle trattative per un'alleanza dall'altra parte l'Austria cercava anche di trovare degli accordi con la Russia interessata ai territori orientali della casata degli Uenzoller di Federico II di Prussia appunto e quindi Pianpenino stava creando una coalizione per schiacciare la Prussia che era allora una piccola potenza anche se aveva un grande esercito sicuramente sovradimensionato rispetto alle dimensioni di questa nazione che comprendeva oltre alla Slese di recente acquisizione il Brandeburgo il Magdeburgo e la Pomerania oltre alla Prussia orientale ed alcuni altri territori però staccati lontani dal nucleo centrale di questo Stato e dall'altra parte appunto Federico II vedendo vedendosi circondato da queste grandi potenze cercò di trovare un alleato nell'Inghilterra l'Inghilterra di suo zio Giorgio II che era il fratello di sua madre in un'alleanza che all'apparenza poteva sembrare come posso dire di ordine religioso l'Inghilterra e la Prussia due nazioni protestanti contro tre potenze cattoliche in realtà questa questa chiave di lettura fu usata solo a livello propagandistico in realtà l'Inghilterra aveva bisogno nella guerra contro la Francia che si sviluppava soprattutto nelle colonie e negli oceani di avere un alleato continentale molto forte che potesse difendere che cosa difendere l'Annover questo elettorato questo feudo tedesco appartenente appunto alla casata regnante in Gran Bretagna appunto Giorgio II di Annover si chiamava e questo piccolo staterello ci teneva molto il re il re britannico ed era peraltro facilmente raggiungibile via terra dalla Francia che aveva ricordo l'esercito più forte sulla terraferma se era debole rispetto agli inglesi sugli oceani però era fortissima aveva un grandissimo esercito in terra e la Prussia era proprio l'ideale alleato perché era vicinissimo alla nove era confinante e avrebbe potuto difenderlo in caso di attacco dei francesi per cui Prussia e Inghilterra nel gennaio del 1756 firmarono l'accordo di Westminster un accordo assolutamente difensivo per la difesa dell'Annover e in cambio Giorgio II avrebbe finanziato il grande esercito di Federico II vista questa situazione Luigi XV a sua volta firmò un'alleanza con l'Austria anche questa un'alleanza difensiva a cui si sarebbe aggiunta poi la Russia quindi vediamo che ci furono questi due grandi blocchi Prussia e Inghilterra contro Austria Francia e Russia l'apparenza erano degli accordi difensivi però in realtà nascondevano degli intenti assolutamente offensivi bastava veramente pochissimo per far scoppiare una grande guerra faccio un attimo una riflessione sulla strategia di Luigi XV lui aveva deciso di alearsi con l'Austria proprio per allontanare un nemico storico per farsi amico un nemico storico e concentrarsi meglio contro l'Inghilterra però facendo così in realtà aveva assecondato i voleri di Maria Teresa d'Austria che invece cercava in tutti i modi di far scoppiare una guerra come vi dicevo prima per riprendersi la Slesia e vendicarsi di Federico II e della sua nazione e infatti così avvenne già vediamo che i francesi attaccarono l'isola di Minorca nel maggio del 1756 che apparteneva allora agli inglesi conquistandola un blitz tipico dei francesi che come vi dicevo prima avevano una flotta molto inferiore rispetto a quella inglese e quindi operavano con questi blitz su delle isole costiere Minorca era vicinissimo al porto di Tolone inoltre poteva essere una merce di scambio con la Spagna per indurla a entrare in guerra con Parigi però di fatto non cambiava niente perché come vi dicevo prima Inghilterra e Francia già erano in combattimento questo attacco sancisse semplicemente la dichiarazione formale di guerra tra i due paesi tuttavia Federico II nell'estate sempre del 1756 capendo che era ormai circondato con l'Austria con le truppe pronte ad attaccarlo agì d'anticipo e invase la Sassonia per assicurarsi comunque uno stato ricco che potesse sostenerlo durante la probabile ormai imminente guerra che stava per scoppiare facendo così fece deflagrare questa guerra l'Austria entrò in guerra per difendere la Sassonia che era uno stato tedesco appartenente all'impero germanico che di Asburgo rappresentavano ancora come imperatore il sovrano l'imperatore era appunto il marito di Maria Teresa e quindi scoppiò questa guerra anche nello stato tedesco che però di della Francia coinvolta pesantemente perché gli accordi con gli austriaci prevedevano un pesante impegno dei francesi in area tedesca quindi Luigi quindicesimo ottenne il risultato contrario rispetto a quello che voleva ottenere si trovava invischiato in una guerra che non interessava che interessava solamente l'Austria non poteva in questa prima fase invadere all'Hannover che era anche lui uno stato tedesco e quindi non voleva infastidire più di tanto gli Asburgo che erano appunto imperatori ancora del regno dell'impero germanico e quindi non volevano altra confusione altre invasioni degli stati sotto la loro protezione e vide passare il conflitto nordamericano in secondo piano inevitabilmente e quindi in quell'anno nel 1756 invece di inviare pesanti rinforzi per schiacciare definitivamente gli inglesi sulle coste ricacciarli dalle coste atlantiche americane non ci riuscirono i francesi perché avevano bisogno di ulteriore tempo di ulteriori soldi di ulteriori risorse per la marina per l'esercito e non c'era più lo spazio di manovra perché la guerra era imminente per cui in nord america riuscirono a inviare appunto solo il generale moncano con due battaglioni di rinforzo poca cosa se considerate che invece gli inglesi con lo stesso anno con la primavera ne inviarono altri quattro battaglioni di regolari più un altro ne reclutarono tra gli americani il cosiddetto 62esimo reggimento poi rinominato 60esimo reggimento detto dei royal america quindi ormai il teatro di guerra della nouvelle france diventava un teatro secondario con la guerra scoppiata in europa che sarebbe stata una delle forse la guerra più sanguinosa del diciottesimo secolo io adesso mi fermo qui perché c'è già molta carne al fuoco per ulteriori approfondimenti su determinate battaglie vi rimando al mio canale youtube dove sto facendo delle ulteriori video di approfondimento per le singole battaglie vi ringrazio per l'ascolto e ci vediamo per la terza parte del mio racconto sulla guerra in nord america grazie a tutti